Intendesse proporre delle azioni più lavorate, invece vediamo Van Basten in dribbling, ancora un altro dribbling, sulla sinistra per Stroppa, le prese con Caceres, può andare al tiro, attenzione, attenzione, bellissima conclusione di Stroppa a girare con l'interno destro, ma il giro non è stato come nelle speranze del giovane giocatore rosso nero. Palla buona, palla buona per Van Basten, servito alla perfezione da Tassotti, Van Basten ancora, un dribbling con la Van Basten e c'è un salvataggio, la palla viene messa dentro da Giovannino Stroppa, gol di Giovannino Stroppa, l'avevo detto prima in occasione dei grandi appuntamenti al suo debutto, Stroppa mette sempre la firma, le vittorie del Milan, gol di Stroppa dunque quando siamo al 17esimo minuto del secondo tempo.